Sindaco, a Francavilla 100 famiglie sono senza corrente, questa però è la punta dell'iceberg nel senso che praticamente metà Abruzzo è senza l'energia elettrica ormai da due giorni. Lei in qualche modo ha denunciato questa mancanza da parte dell'azienda che eroga l'energia elettrica dell'Enel che insomma si è fatta trovare impreparata. Io ringrazio veramente di cuore tutti quegli operai che stanno sul campo, gli impiegati che stanno sul campo ormai ininterrottamente da diversi giorni, loro sono solo da ringraziare, però continuo a stigmatizzare il comportamento di questa azienda e quindi ce l'ho un po' con i vertici, perché? Perché questo evento, seppur eccezionale, seppur particolare nel mese di marzo era stato ampiamente preannunciato, prova ne è il modo in cui a Francavilla lo abbiamo affrontato con disagi ridotti al minimo grazie proprio a una grande attività di prevenzione. Non è possibile nel 2015 che un'azienda di questo tipo si faccia trovare impreparata. Nella notte dell'emergenza io ho contattato i responsabili e mi hanno detto che non avevano squadre qui sul territorio, le hanno dovute far arrivare da fuori. Oggi siamo alla conseguenza di questo, perché quando non si è preparati all'inizio poi non si recupera. Ma questo è il minimo, ci sono anziani nelle cui abitazioni stanno a 8 gradi, 7 gradi, anche malati, persone che hanno bisogno di supporto, noi ci siamo messi a disposizione. È possibile ipotizzare anche azioni legali nei confronti dell'Enel? Io ritengo che laddove si ravvisi il fatto che questa emergenza dell'energia elettrica non è dovuta solo alla calamità naturale, che pur c'è stata, diciamocelo, ma dovesse derivare da una mancanza dell'azienda, è ovvio che si potrà pensare a una class action, si potrà pensare a una causa di risarcimento dai singoli cittadini che hanno subito danni, assolutamente penso di sì.